Insomma all'inizio di questo viaggio che è partito un po' di mesi fa con una richiesta da parte mia, la campagna di comunicazione fatela come quella che voi vorreste vedere. E quella che vorrei vedere io e che devo dire mi ha anche un po' emozionato è il fatto che io sono molto convinto che questa città per la voglia di cambiamento, per la rabbia che esprime, per il cattivo esempio, per cambiare non basta un nome e una faccia ma ci vogliono tanti nomi e tante facce. E allora quando ho visto quello che avevano pensato e che poi è stato appeso anche sui muri della città mi sono un po' emozionato perché è esattamente quello che volevo ed è quello che penso per il futuro di Roma, che quella rabbia, che la voglia di cambiamento beh, deve passare per la responsabilità e per l'opportunità che viene data ai cittadini di Roma. Grazie. 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 Grazie.